L'atmosfera in barca è molto bella, siamo tutti giovani quindi le motivazioni sono altissime, abbiamo voglia di migliorare giorno dopo giorno e sicuramente è una grande esperienza per tutti. Io vengo da un passato sulle derive quindi per me è un mondo nuovo ma mi stanno aiutando tantissimo tutti quanti, tutti i ragazzi che hanno un background di esperienze più offshore e sicuramente è una cosa importante per noi. Per me personalmente poter rappresentare l'Italia in questa manifestazione è incredibile, è un sogno, un sogno che si avvera insieme alle Olimpiadi, questo è sempre stato un mio sogno fin da bambina quindi per me è incredibile. Come se stai a l'altra ora? Sì, a giù un po' a l'altra. Sì, ho una volta. Sì, vieni bene. Sì, vieni bene. Il nostro John Paglia è rispetto a peace nước, autesi, a pittà, a metà, un riso. Siamo qui, in ACTI, a pittà. Grazie.